Un saluto dall'etigi della mobilità, lavori su via Appia all'altezza di piazza dell'Alberone, sono deviate quattro linee di bus, i dettagli su romamobilita.it. Manifestazioni in città nel pomeriggio tra le 14.30 e le 18 è previsto un sit-in di protesta a piazza del popolo sulla crisi all'Italia. Partito l'orario estivo delle zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo che ora sono in vigore dal mercoledì al sabato dalle 21.30 alle 3. Per tutte le altre